Ciao ragazzi, benvenuti ad un altro video del trappolone. Oggi parliamo degli UAD Sphere LX e DLX, i due nuovi microfoni di Universal Audio che permettono di emulare i più bei microfoni mai concepiti nella storia. Ora, prima di entrare nei dettagli tecnici di questi microfoni, la prima domanda che mi farei se dovessi comprarli sarebbe ma quindi con due microfoni di questi riuscirei a gestire uno studio ed avere tutti i suoni che mi servono? Insomma, riuscirei a registrare tutto quello che voglio registrare con due microfoni di questi e l'unico modo per rispondere a questa domanda è registrarci un pezzo. Quindi vi lascio subito a una prova che abbiamo fatto io e Erika e poi ne parliamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, il brano che avete sentito in realtà è una cover dell'Iola Tengo, una band che io e Erika adoriamo da tantissimi anni, probabilmente una delle nostre band preferite da sempre e fondamentalmente con questa rack di questa cover abbiamo cercato di sfruttare al massimo questi microfoni. Non vi nascondo che per questo video doveva venire un chitarrista che stimo moltissimo, ovvero Vincenzo Folcarelli a suonare le chitarre che sicuramente avrebbe fatto un lavoro molto migliore rispetto a me che non sono un musicista così competente, così bravo, però penso che comunque nonostante tutto questi microfoni abbiano reso l'idea di quanto sono versatili. Parlando dei due microfoni, quindi dello Sphere DLX e dello Sphere LX, sono entrambi microfoni a condensatore a diaframma largo, la differenza tra questi due è che questo fondamentalmente è un po' più di qualità, parliamo di due microfoni comunque di altissima qualità che hanno un self noise pregamente inesistente, questo è un self noise di 7 dB e questo è un self noise di 10 dB che comunque ha un valore abbastanza raro per un condensatore su questa fascia di prezzo, comunque parliamo di microfoni estremamente silenziosi oltre che estremamente lineari e fondamentalmente la differenza tra i due è che mentre il DLX che è quello più completo permette di emulare 38 microfoni e soprattutto permette il funzionamento in stereo, quindi di emulare anche una coppia di microfoni posta left right o come vogliamo, poi vedremo che ci sono un sacco di settaggi che possiamo cambiare, l'LX invece è la versione più piccolina e ci permette di accedere a 20 microfoni, comunque bene o male i microfoni sono sempre quelli semplicemente essendo il DLX più grosso e più completo ha qualche microfono in più, parlando di questi microfoni la particolarità veramente curiosa è che si rifanno al Townsend Labs che era un microfono che faceva la stessa cosa uscito anni fa e che poi Universal Audio diciamo ha rilevato per tirare fuori questo modello più aggiornato però fondamentalmente il discorso è sempre quello con la differenza che con la tecnologia che va avanti con le macchine che diventano più potenti, con le emulazioni che diventano sempre più di qualità presa in mano da UOD questa cosa è diventata super semplice e super funzionale. Ora diciamo che questi microfoni all'inizio possono sembrare un po' complessi perché hanno delle funzioni insolite, ad esempio il fatto che il loro cavo in dotazione ci dà due uscite XLR e come funzionano? Questi microfoni fondamentalmente hanno due diaframi, quindi due capsule identiche e chiaramente questi cavi suppongo che vadano poi a alimentare tramite Phantom queste due capsule e quindi è come se fossero due microfoni in uno questa cosa serve per capire bene come emulare diversi pattern polari perché chiaramente tutti i microfoni che vanno a emulare questi Sphere sono microfoni a pattern polari diversi ci sono condensatori cardioidi, ci sono microfoni a nastro a figura 8 o ipercardioidi come ad esempio il Bayer M160 e quindi chiaramente le due capsule servono a capire come emulare i vari pattern polari dei vari microfoni però questo ci permette di giocare veramente tanto poi con le funzioni del microfono quando andiamo ad aprire il plug-in che appunto ci permette di scegliere le emulazioni perché possiamo cambiare ad esempio l'asse quindi è come se in mixaggio noi possiamo girare il microfono a ripresa già fatta, possiamo cambiare il pattern polare di ogni microfono possiamo decidere di emulare due microfoni che vengono miscelati nel singolo plug-in e quindi come se avessimo messo due microfoni diversi davanti al cantante e poi magari giocare con l'asse di ognuno, miscelarli come vogliamo e tutto quanto oltretutto altra funzione veramente figa di questi microfoni è che possiamo emulare anche quanto ignorare l'ambiente intorno al microfono per esempio possiamo emulare diversi libri di schermi sapete quegli schermi che si mettono davanti al microfono e che permettono di isolarci un po' di più dalla stanza anche l'iBall, insomma tutte quelle cose là e appunto il plug-in di UOD ci permette di scegliere queste cose ora, la cosa veramente figa di questo prodotto è che chiaramente questo è un prodotto che funziona molto bene se avete un'interfaccia Apollo con Preunison perché in quel caso loro dicono che chiaramente possiamo emulare i microfoni in tempo reale e quindi alla latenza zero però io comunque quando ho fatto queste registrazioni che avete sentito ho caricato il plug-in e non dispongo di un Apollo o un Apollo G-Symphony in questo caso e quando ho messo il plug-in in ascolto con buffer a 128 comunque il plug-in mi dava 22 sample di latenza quindi praticamente niente quindi sono plug-in che possono essere utilizzati in tempo reale per emulare il microfono che vogliamo emulare anche mentre registriamo chiaramente dovete avere una CPU che lo regge però non ho trovato questi plug-in particolarmente pesanti onestamente io ho un comunissimo i9 che ho sfruttato sennò il 10% quando sto facendo queste registrazioni quindi immagino che anche con i5 e con i7 ve la cavate e potete utilizzare questi plug-in a buffer basso in tempo reale poi chiaramente se dovete fare più riprese in tempi diversi vedete che la CPU non vi regge renderizzate la traccia la frizzate poi in mix magari la frizzate e caricate il microfono che più si presta comunque ho trovato questi microfoni veramente incredibili perché comunque effettivamente tanti microfoni che emulano io ce le ho nel mio parco microfoni e comunque quando ho caricato l'emulazione sull'LX e sul DLX mi sono trovato molto bene e ho trovato l'emulazione molto riconoscibile addirittura l'emulazione del Colts 4038 del Bayer M160 mi è sembrata veramente veramente fedele all'originale chiaramente quello che permette a questo microfono di funzionare bene è innanzitutto il preamp che usate ma anche la calibrazione che andate a fare che in realtà può sembrare una cosa complicata ma è semplicissima allora per utilizzare questo tipo di microfoni io vi consiglio un preamp molto trasparente quindi un preamp stock di qualsiasi scheda audio quindi una Focusrite io ho utilizzato quelli dell'Odient SP800 potete utilizzare chiaramente i Preunison di UAD che sono quelli per cui sono stati ottimizzati però comunque con l'Odient sono andati bene con la Focusrite Scarlett sono andati bene quindi un po' tutte le schede audio base vanno bene è chiaro che se cominciate ad utilizzare un preamp un po' più chic un po' più colorato come un NIV come un API come un SSL chiaramente questa emulazione perde un po' il senso di esistere perché chiaramente si aspetta un suono che viene da un preamp che non colora affatto e che sia più flat possibile e quindi meno colorato possibile la calibrazione è semplicissima chiaramente avete un microfono ma avete due linee XLR a cui dovete dare entrambe la Phantom quindi vi servono due canali e soprattutto è molto importante che questi due canali abbiano le stesse caratteristiche non solo a livello di preamplificazione di preamp ma anche a livello di volume oltretutto c'è una funzione calibrazione un switch qui sul microfono che potete accendere in modo che potete calibrare guardando il plugin i due volumi ma alla fine tutte le volte che l'ho fatto mi sono ritrovato a dare volume identico a un canale e all'altro con i miei pre quindi fondamentalmente per far funzionare bene questi microfoni e fare in modo che lavorino bene con le varie emulazioni e che lavorino bene con i vari pattern polari non dovete fare nient'altro che assicurarvi che il gain dei vari canali che appunto andate a preamplificare sia il medesimo e questo comunque se volete essere sicuri accendete la modalità calibrazione e andate a calibrare come spiega appunto anche WAD in tutti i suoi video comunque voglio andare un attimo davanti alla schermata del computer per farvi vedere un po' come ho giocato con questi microfoni in questa rack e darvi anche un'idea di quante potenzialità ha il plugin che emula tutti i microfoni e ci permette di giocare con i vari parametri prima di andare davanti alla schermata del computer se siete nuovi da queste parti vi consiglio di dare un'occhiata nei link in descrizione in cui troverete un ebook gratuito in cui vi insegno a creare il vostro mix template e una lezione gratuita di 40 minuti in cui vi svelo 10 errori fondamentali da evitare per ottenere un buon mix quindi tutto un materiale gratuito per portare le vostre produzioni a un altro livello ok eccoci qui davanti alla schermata di Pro Tools come vedete qui per la batteria ho utilizzato due microfoni ho messo un LX come avrete visto nel video introduttivo davanti al kick e poi come overhead ho utilizzato lo Sphere DLX quindi quello più grosso l'ho messo come overhead e quello più piccolo l'ho messo come kick allora su quello più piccolo ho emulato un D12 della KG insomma classico microfono da kick vintage a Bayroad e come overhead ho utilizzato un Bayer M160 quindi un ribbon ipercardioide vedete poi il plugin quanto è comodo perché ci permette appunto anche di mantenere lo stesso microfono e giocare con diversi pattern polari possiamo anche attivare i filtri possiamo cambiare la scissa l'effetto prossimità che questa è una cosa utilissima soprattutto per le voci per sentire magari più la capsula che viene sollecitata dalle basse dovuto al fatto che magari il cantante sta cantando più vicino o più lontano nel caso vogliamo meno basse e poi se andiamo qui chiaramente possiamo scegliere i vari microfoni quindi condensatore diaframma largo e qui vediamo che ci sono cose assurde abbiamo l'emulazione del C800G della Sony microfono che costerà 8-9 mila euro altri Sony il 414 insomma i vari Neumann il Telefunken e l'AM qui anche altri modelli molto particolari c'è anche il classico 57 SM7B R20 dell'Electro Voice e così via insomma qui comunque è stato il D12 vi faccio sentire un attimo la batteria come suona spegniamo tutta la roba che ho acceso perché chiaramente poi mi ci sono messo a giocare un pochino cosa importante chiaramente ricordatevi che quando andate a aprire il plugin sull'emulazione dovete dirgli qual è il microfono source quindi qui potete scegliere tra il DLX e lLX e il vecchio Townsend Labs L22 ok quindi questo è il microfono che mi farà da source sentiamo un attimo e così invece per l'opera ti faccio sentire come cambia il suono se passiamo tra un microfono a nastro io ho utilizzato l'M160 nella REC però ti faccio sentire anche come cambia appunto se vado su un Royer se vado su un condensatore se vado su altri nastri se vado su altri Neumann questo è bellissimo il 67 vedete come chiude sulle alte ma allo stesso tempo si colora molto sentiamo l'800 della Sony questa di poter cambiare modello e soprattutto con un'accuratezza così elevata non è cosa da poco vi faccio sentire anche magari qualche voce sentiamo la voce di Erika per lei ho utilizzato un 47 sometimes the bad guys come out on top sometimes the good guys lose we try not to lose our hearts not to lose our minds sometimes the bad days maintain their grip sometimes the good days fade we try not to lose our hearts not to lose our hearts not to lose faccio vedere anche la funzione isosphere che isola ancora meglio il microfono emulando uno di questi screen appunto per ridurre la riflessione della stanza sometimes the bad guys come out on top sometimes the good guys lose we try not to lose our hearts not to lose our minds chiaramente questo non si sente tanto perché la mia stanza è già abbastanza stoppata però può essere una cosa utile quando magari avete una stanza che riverbera non so quanto possa aiutare se avete una stanza problematica però è una funzione intelligente che non sono riuscito a apprezzare almeno nel mio caso la cosa veramente figa di questo plugin è la possibilità di attivare la funzione dual ovvero di avere due microfoni che possiamo miscelare vedete fondamentalmente io qui ho aperto due microfoni e quindi adesso posso tranquillamente miscelare per esempio un 414 con l'800 e chiaramente è un po' come quando mettete due microfoni davanti al cantante con la differenza che però qui ne avete messo uno bello centrato posizionato bene che però vi simula questa cosa sometimes the bad guys come out on top sometimes the good guys lose we try not to lose our hearts not to lose our minds sometimes the bad days maintain their grip sometimes the good days fade hurts the brain to think hurts the... ora detto tutto questo data comunque la qualità e la praticità di questi microfoni chiaramente il prezzo è abbastanza elevato è un prodotto chiaramente pro però allo stesso tempo vi direi che dopo averlo provato sono rimasto sconvolto dalla qualità che mi ha permesso di tirare fuori comunque effettivamente non avrei nessun problema a registrare un disco soltanto con questi due microfoni anche perché a me onestamente anche la batteria ripresa solo da due microfoni mi piace molto è chiaro che ci toglie un sacco di possibilità sul fare i balance però quando il batterista ha le idee chiare e sa suonare e soprattutto se volete un prodotto un po' più diretto un po' più retro in linea anche con quello che va di moda oggi nella maggior parte dei casi soprattutto nell'indie rock vi sicuro questi microfoni vi permettono di tirare fuori cose veramente interessanti per la voce l'ho trovato stratosferico per la batteria l'ho trovato incredibile sulle chitarre chiaramente avendoci emulato fatemi rivedere perché non mi ricordo un 57 per una e un 87 per l'altra ecco magari riprendere un microfono come questo per emulare un 57 ha poco senso però allo stesso tempo avere due microfoni per chi magari non è nemmeno solito registrare un sacco di tracce contemporaneamente che permettono di emulare qualsiasi microfono figo di cui avreste bisogno in qualsiasi fase della produzione quindi durante la rec ma anche durante il mixaggio questa è una cosa che permette veramente di avere opzioni infinite per esempio non sapete quante volte mi è capitato che ha detto quella voce ho sbagliato a farla con l'87 avrei dovuto farla con un dinamico tipo con un SM7 oppure con un 57 ormai l'avevo fatta e magari mi sono trovato una voce che era un sacco più acida un sacco più mediosa di come l'avrei voluta e comunque magari per quel tipo di voce non c'era bisogno di tutto quel dettaglio di un 87 magari c'era bisogno della prossimità e della chiusura di un SM7B ecco diciamo che ottenere una versatilità con questa qualità e con questa praticità secondo me è veramente una cosa su cui ragionare quindi onestamente se dovessi farmi uno studio da zero oggi e avessi un budget abbastanza limitato per i microfoni comunque due di questi me li prenderei senza problemi e niente non so che altro dire fondamentalmente è un prodotto molto semplice ma allo stesso tempo pieno di scelte pieno di qualità fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se li avete provati e cosa vi è sembrata insomma la registrazione che ci ho fatto tenendo conto che comunque ho dovuto suonare tutto io perché abbiamo avuto un problema non è potuto venire chi doveva suonare detto questo io come al solito vi invito a mettere like al video e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto inoltre se volete approfondire le vostre skill come al solito ci sono in descrizione il mio Patreon nei miei corsi professionali magari dateci un'occhiata perché può essere utile se volete imparare a fare sul serio nel mondo dell'audio vi saluto direi che per oggi è tutto love love